la misura per l'inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asiva. Questa parte dà un discorso proprio dell'accettare queste persone ma facendogli fare un percorso e guarda caso è un po' quel documento che è a Como, è stato sovroscritto qualche tempo fa, qualche anno fa che passa per il titolo della buona accoglienza, cioè bisogna mettersi nell'ottica e queste persone che vengono da noi, bisogna dargli anche gli strumenti per poter far sì che questi possano partecipare alla nostra vita, per cui con corsi di lingua e con anche possibilità di seguire dei corsi professionali, ciò che questo già viene fatto, però passando sotto come proposta di legge diventa una cosa che tutti si devono tenere, non solamente alcune realtà, ma tutte le realtà a libero nazionale, come vi dicevo prima sono dei piccoli passi, però concreti e dobbiamo puntare soprattutto sulla concretezza, sia per le persone che conosciamo, alcuni di noi conoscono perché già fanno un certo servizio con loro, ma sia persone anche che sono qui, come dicevo prima, da anni, che meritano e che necessitano perché non è un merito perché hanno fatto tanto, ma perché sono persone che stanno contribuendo a quello che è lo sviluppo della nostra società e del nostro bene comune, per cui vanno anche apprezzate e soprattutto considerate come tali e non come dei numeri. Sicuramente questo è un aspetto che va per quanto riguarda l'amministrazione della città di Como, che non va in sintonia, lo sappiamo, l'abbiamo letto anche recentemente, però quello che non è che se non va in sintonia con un comune dobbiamo per forza fare dei passi indietro, ma bisogna costantemente andare avanti perché la realtà ce lo chiede ed è quello che il vissuto quotidiano che ognuno di noi vive è questo. Vi chiedo un po' tutti la cortesia di stare attenti ai falsi allarmismi perché sono questi quelli che danneggiano poi il nostro stare in comune e la nostra società in questo momento, perché con gli allarmismi sicuramente non andiamo avanti, ma ci chiudiamo sempre più e non abbiamo bisogno di questo. Prima quando si parlava di alcuni punti, tenete conto che molti di questi punti che abbiamo sottolineato fanno già parte, sono già da anni che sono presenti nelle leggi della Spagna e della Germania, visto che spesso noi andiamo sui confronti di altri Stati che riteniamo che sono più avanti di noi, sapete che questi ce l'hanno già e che oltretutto anche dalla stessa comunità europea stiamo avendo delle sollecitazioni per normalizzare determinate figure al nostro interno.